Musica Pregare la Madonna, ascoltare i bisogni del prossimo, essere madri in un mondo implacabile, sordo e indifferente alle sofferenze. Papa Francesco alle sentinelle della Santa Famiglia. Che tristezza l'approvazione dell'autonomia differenziata in Senato, le parole di Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza Bisignano. Prosegue le parole del Sinodo, la piccola scuola di sinodalità, organizzata dalla Diocesi di Andrea. Nell'ultimo appuntamento, ospiti i formatori dell'Aratro e la Stella. Oggi a Barletta, in occasione del congresso provinciale di Fratelli d'Italia Bat, l'intervento del ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e del sottosegretario alla salute, Marcello Gemato. La crisi nel canale di Suez, che da qualche mese ha visto ridursi fortemente il traffico commerciale, sta penalizzando anche l'agroalimentare pugliese. L'allarme di Col Diretti. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Portate le intenzioni del mondo attraversato da conflitti, violenze e indifferenza, e anche quelle di molte persone sofferenti, abbandonate, rifiutate. Così il Papa ha i membri della rete di preghiera mariana. Sentiamo. Pregare la Madonna, ascoltare i bisogni del prossimo, essere madri di un mondo oggi implacabile, sordo e indifferente alle sofferenze altrui. È il mandato che il Papa affida alle Sentinelle della Santa Famiglia, rete internazionale di preghiera mariana, composta da solo donne e nata dieci anni fa a Bruxelles, con l'intenzione di pregare la Vergine Maria per la Chiesa e per il mondo. Francesco sottolinea il fatto che il movimento sia composto soltanto da donne. Mette in luce, afferma, la vostra vocazione specifica e insostituibile nella Chiesa, ad immagine della Vergine Maria. Voi, dice le Sentinelle, non solo pregate la Madonna chiedendole di intercedere, ma avete ancora più la disposizione a conformarvi a lei, alla sua maternità, a unirvi alla sua preghiera di intercessione di madre per tutti i figli della Chiesa e per il mondo. Così, qualunque sia il vostro stato di vita, con Maria siete tutte madri. Una maternità che si realizza anche nello sguardo rivolto sulle realtà del mondo, che sia sempre, come quello della Vergine Maria, uno sguardo di madre, paziente, comprensivo, compassionevole, è l'auspicio di Bergoglio, che raccomanda di impregnare tutta la vita e le relazioni di questo sguardo, non solo quando vi trovate tra voi come Sentinelle e nei momenti di preghiera, ma nella vita quotidiana, in famiglia, in parrocchia, nei vostri ambienti di lavoro. L'augurio di Papa Francesco è che possano portare pure le intenzioni del mondo attraversato da tanti conflitti, tante violenze e tanta indifferenza. E anche quelle di molte persone sofferenti, abbandonate, rifugiate o in grande difficoltà. Domani nella Basilica di Santa Croce di Lecce, alle ore 18, si terrà una messa preseduta da Monsignor Michele Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce, per celebrare San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti. E adesso cambiamo argomento, così come viene proposta, l'autonomia differenziata istituzionalizza di fatto la differenza tra regioni. E il pensiero che ha espresso sul provvedimento approvato in Senato, Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza, Bisignano. Che tristezza, l'approvazione dell'autonomia differenziata in Senato. Sono le parole di Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza, Bisignano, in un post pubblicato su X, l'ex Twitter, all'indomani dell'approvazione, appunto, del provvedimento che ora passerà alla Camera dei Deputati. I cristiani presenti e votanti in Senato hanno dimenticato la scrittura, i padri della Chiesa, chiede il pastore. Stanno dalla parte dei ricchi in maniera pregiudiziale, aggiunge, racchiudendo poi la questione nell'hashtag Secessione dei Ricchi. Così come viene proposta questo provvedimento, di fatto cristallizza, istituzionalizza la differenza che già è significativa tra queste regioni. Una delle aree problematiche, ad esempio, è l'accesso alla sanità, alla sanità pubblica. È sotto gli occhi di tutti che nessuno si ferma in Calabria per farsi curare. Si va tutti fuori, si va nel Lazio, si va in Emilia Romagna, si va in Lombardia. Questo dovrebbe dire qualche cosa. È una legge del genere che apparentemente promuove l'identità e la creatività delle regioni. Di fatto non è così. I fedeli davanti a questo, così come davanti a tante operazioni di legge del governo, dei governi, un po' di tutti, per la verità, sono frastornati, sono confusi, non vengono offerte con chiarezza le coordinate di provvedimenti legislativi, non vengono ascoltate le persone, per cui spesso la gente è solamente confusa ed esprime la propria confusione come sa, come può. Quindi la gente si esprime poco perché non sa che dire. Prosegue le parole del sinodo, la piccola scuola di sinodalità organizzata dalla diocesi di Andrea. Nell'ultimo appuntamento ospiti i formatori dell'Aratro e la Stella. Sinodalità e missione. Su queste due parole ha riflettuto la comunità della diocesi di Andrea nell'ultimo appuntamento delle parole del sinodo, la scuola di sinodalità organizzata dalla chiesa locale. A condurre il laboratorio comunitario è stata l'equip dell'Aratro e la Stella, un'impresa di formazione che opera in diversi contesti, sviluppando il modello dei cosiddetti quattro codici, materno, paterno, filiale e fraterno. Ogni cammino che si rispetti ha la necessità che le persone procedano insieme e che ognuno regoli il proprio passo e il ritmo sul tempo dell'altro, del più fragile. Camminare insieme è una condizione assolutamente necessaria affinché si possa affrontare qualunque situazione in maniera generativa. Cioè una comunità che cammina insieme deve porre e deve costruire quel clima vitale attorno a ciascuno affinché ognuno in qualunque situazione si trovi possa fiorire. Come rendere generative le situazioni di fatica, di difficoltà, di crisi? Allora nessuno ce la può fare da solo. Questo è un aspetto fondamentale. Le persone che sono persone, famiglie che sono in solitudine rischiano nelle situazioni di fatica di rimanere schiacciate e di rimanere imprigionate in questo. E qui la comunità deve far sì che attorno a queste persone si costruisca quella trama di rapporti affinché possa circolare vita. La vita non ci arriva dalle nuvole, la vita ci arriva dagli altri. E quindi sono solo i rapporti, le relazioni autentiche che possono portare vita a chi in quel momento non ce la sta facendo. Prosegue dunque nella Diocesi di Andria il percorso formativo che approfondisce alcune parole chiave del cammino sinodale e che propone momenti di confronto e formazione utili a riconoscere il senso autentico del camminare insieme come credenti invitati all'annuncio del Vangelo nella storia e nel mondo. Stiamo avendo incontri tutti molto belli, molto ricchi di contenuti e soprattutto vediamo un buon gruppo di laici che sono costanti e fedeli a tutti gli appuntamenti e quindi attraverso questo cammino ci si educa un po' tutti a questo stile al quale il Papa ci sta chiamando, quello della sinodalità, cioè del camminare veramente insieme aiutandoci, consigliandoci, sostenendoci, correggendoci ma tutti desiderosi di camminare insieme perché il mondo di questo ha bisogno, di una testimonianza non fatta da eroi solitari ma da una comunità che insieme testimonia il Signore. Intervento oggi a Barletta in occasione del congresso provinciale di Fratelli d'Italia, BAT, del ministro per gli affari europei Raffaele Fitto e del sottosegretario alla salute Marcello Gemato. Tra i temi snocciolati anche le prossime europee. Vediamo. Un territorio che intende ripartire come tutto il sud grazie all'impegno di un partito che è alla guida del governo così gli iscritti a Fratelli d'Italia nel giorno del congresso provinciale di Barletta, Andrea Trani. Un impegno che si concretizza secondo il partito nelle riforme e negli obiettivi centrati dal governo Meloni come le modalità di utilizzo di risorse assegnate al Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo compiuto e ottenuto un risultato rilevantissimo che è quello della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Per anni abbiamo ascoltato tutti che dicevano che sarebbe stata la soluzione. Nel momento nel quale noi trattando con la Commissione europea otteniamo questo risultato non va più bene per alcuni la zona economica speciale per il sud che invece rappresenta una grande opportunità reale sia in termini di semplificazione che di incentivi che di infrastrutturazione come il piano strategico per il sud al quale stiamo lavorando e lavoreremo nei prossimi mesi sicuramente confermerà. Sono tutte cose concrete che penso dimostrino in modo molto chiaro il livello di attenzione che il governo sta portando avanti soprattutto nel sud d'Italia. Il congresso provinciale ha visto la riconferma di Francesco Ventola come coordinatore a cui assieme al partito toccherà fare la collante per una comunità che ha saputo affermarsi addetto assicurando che non sarà solo in questo lavoro. Insieme a me ci sarà un gruppo di una classe dirigente eletta quindi non più nominata di un coordinamento provinciale fatto di qualità e non solo ma soprattutto che rispecchia le diverse professionalità e profili di questo territorio e le peculiarità. Quindi una bella opportunità per questo territorio perché vedrà tantissima gente coinvolta nelle scelte più importanti. E' avvenuta nei giorni scorsi la donazione di un ecografo da parte del comitato Carlo Detrizio in favore della società operaia di mutuo soccorso di Bisceglia e Roma Intangibile. Una iniziativa che non rappresenta soltanto un sogno realizzato per la famiglia del giovane maresciallo scomparso a Nassiria ma soprattutto un gesto di solidarietà per l'intera comunità. Sentiamo. Un ecografo per aiutare le persone in difficoltà a disposizione dell'intera comunità nel segno indelebile dell'operato e della generosità di Carlo Detrizio il giovane maresciallo dei carabinieri biscegliese è deceduto nell'attentato dell'aprile del 2006 a Nassiria. La donazione dell'apparecchiatura sanitaria è avvenuta in una cerimonia alla presenza delle autorità sanitarie locali e dei rappresentanti dell'arma dei carabinieri in favore della società operaia di mutuo soccorso Roma Intangibile di Bisceglia da parte del comitato Carlo Detrizio su impulso del dottor Nicolò Detrizio padre del giovane maresciallo scomparso. Considerando che la telemedicina cominciava a nascere con Roma Intangibile mi venne fuori l'idea insieme alla famiglia però sia per mio figlio Carlo che ha sempre continuato sia quando era in Italia sia quando è stato in Iraq ha continuato ancora a fare del beneficio perché è lui che mi ha spinto a fare tutti questi passi grazie anche agli amici che mi hanno dato la possibilità di realizzare questo sogno che per noi diciamo che è diventato un sogno ma che non era un sogno è una realtà che spero che altre associazioni si uniscano a quelle di Roma Intangibile per avere lo stesso servizio perché il servizio non è solo per l'utenza di Roma Intangibile ma è per l'utenza di tutta la città biscegliese. Nell'ottica di promuovere azioni incisive utili alla popolazione con particolare attenzione verso le fasce più fragili il servizio di telemedicina di Roma Intangibile diventa anche Med for You con l'ausilio del macchinario che permetterà una migliore qualità della refertazione. Uno dei nostri obiettivi era quello di usare la telemedicina e quindi fare molta prevenzione. La telemedicina è partita, ci serviva un ecografo, è arrivato anche l'ecografo che la famiglia Detrizio dona, ha messo a disposizione di Roma Intangibile partiamo con questo per una sorta di digitalizzazione della medicina. Noi in tempo reale nel giro di pochi minuti riusciamo a recepire la persona che ha bisogno e a dare la risposta. È una cosa che noi diamo ai bisognosi che hanno necessità di essere visitati e che non hanno la possibilità di andare né in ospedale né ai privati. Questa donazione è il più vero grande patrimonio che noi potessimo avere perché lo distribuiremo sul territorio alla povera gente. La crisi nel canale di Suez che da qualche mese ha visto ridursi fortemente il traffico commerciale a causa degli attacchi degli uti dello Yemen contro le navi penalizza anche l'agroalimentare pugliese. È l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia. Sentiamo. Il 15% del totale delle importazioni di fertilizzanti in Italia per un valore di circa 200 milioni di euro nel 2023 sono a rischio a causa delle difficoltà nella navigazione provocate dagli attacchi degli uti dello Yemen contro le navi nel Mar Rosso con forti ripercussioni anche per l'agricoltura pugliese. Lo sottolinea Coldiretti sui dati Istat in riferimento al documento di Italia, Francia e Germania al Consiglio Affari Esteri sulla missione navale dell'Unione Europea nel Mar Rosso. In particolare si tratta dei concimi idrosolubili che vengono utilizzati nell'afferta irrigazione e per i quali si registrano già le prime tensioni sui prezzi. La situazione di criticità riguarda le esportazioni di prodotti agricoli e agroalimentari pugliesi che si muovono in nave come la frutta e la verdura con la perdita di fette importanti di mercato che sarebbero poi difficili da recuperare. L'export dell'agroalimentare pugliese verso i paesi africani, indiani e orientali ammonta oltre 500 milioni di euro e l'intero comparto può offrire 100.000 posti di lavoro green entro i prossimi 10 anni in Puglia. Ma secondo la Coldiretti regionale andrebbe colmato il gap infrastrutturale e logistico che fa perdere competitività alle imprese della regione. In questo scenario, continua l'Associazione Agricola, è importante il raddoppio delle risorse per l'agroalimentare con la nuova versione del PNRR con il rifinanziamento di oltre 2 miliardi per i contratti di filiera agroalimentare, pesca e foreste. Inoltre è importante lavorare anche sulla internazionalizzazione per sostenere le imprese che vogliono conquistare nuovi mercati e rafforzare quelli già consolidati. E' attivo il canale WhatsApp della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi uno strumento nuovo per condividere la vita della chiesa locale. Ascoltiamo. La Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi ha attivato un canale WhatsApp per comunicare con i fedeli e diffondere le notizie e gli eventi della Diocesi. E' stato aperto in occasione della festa di San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti e dei comunicatori. Vuole essere uno strumento nuovo per comunicare e condividere la vita della chiesa diocesana e italiana. Attraverso l'applicazione si potranno ricevere messaggi audio, video, immagini e testi che riguardano il Magistero, le iniziative degli uffici diocesani, la Catechesi, la Solidarietà e la Cultura. Per iscriversi basterà collegarsi sul sito della Diocesi. Cliccando sul link si avrà la possibilità di visionare tutti i messaggi in ordine cronologico, compresi quelli meno recenti. Al momento dell'iscrizione le notifiche risulteranno disabilitate. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario attivarli attraverso il simbolo della campanella dell'applicazione. In caso contrario, per vedere le ultime novità, sarà sufficiente andare nella pagina base di WhatsApp e cliccare su Aggiornamenti e su Diocesi di Molfetta. Si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata. Grazie a tutti.